ciao a tutti ragazzi bentornati sul mio canale appena terminato il sotteggio di champions league probabilmente vi sorprenderò con le mie affermazioni però prima andiamo a vedere quali sono le partite estratte in questione real madrid celsi e sarà lo stesso quarto di finale dell'anno scorso e io dico real madrid favorito perché celsi giocatori ce li ha ma secondo me real madrid quando vuole diventa diventa ingiocabile e per i celsi temo e credo che sia un avversario troppo troppo difficile da battere quindi vedo la possibilità per carletto ancelotti di arrivare in semifinale poi ragazzi se il celsi dovesse riprendersi dovesse sistemare un po di cose potrebbe comunque dar vita sicuramente a un quarto di finale emozionante però io penso che real madrid ragazzi abbia già un piedino in semifinale dai parliamoci chiaramente modric benzema vinicius cioè giocatori giocatori che quando vogliono sono sono ingiocabili e quindi per il real madrid dopo un ottavo contro una squadra inglese perché aveva beccato liverpool quarto di finale contro una squadra inglese anch'essa quindi vedremo vedremo cosa cosa verrà fuori io dico real secondo squadra secondo sorteggio uscito e secondo squadre pescate inter contro benfica questo secondo me è un sorteggio buonissimo per l'inter che giocherà in casa al ritorno perché è stato estratto anche per primo al Milan e quindi la UEFA ha dato l'indicazione che nel caso si fosse verificata questa eventualità sarebbe stata l'inter a giocare il trasferto alla prima e non il Milan in quanto il Milan campione d'Italia e quindi l'inter giocherà la prima in Portogallo e deve stare molto attento a mio avviso deve stare molto attento perché il Benfica è più pericoloso del Porto quindi si è fatto fatica con il Porto deve stare molto 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 attento perché il Benfica a mio avviso gioca meglio davanti è più pericolosa a giocatori qualitativamente superiori quindi deve stare attento poi ragazzi andare a giocare in casa del Benfica è tosta è veramente tosta quindi l'inter non potrà tra virgolette speculare sul risultato dell'andata questa volta ma dovrà stare molto attento molto attento alla partita di andata quindi io dico inter però per come giocare il Benfica sarebbe bello passasse il Benfica ragazzi cioè non me ne vogliano gli amici interisti però io l'ho sempre detto sono nostalgico sono romantico e a me il Benfica vederlo passare e vincere la Coppa sarebbe proprio bello sarebbe proprio un'emozione grande quindi per la storia che comunque ha il Benfica sarebbe bello dopo tutti questi anni che non è più riuscito a vincere anche per una filosofia differente comunque loro spendono poco poi comunque rivendono a tanto mi piacerebbe mi piacerebbe tanto vederli vincere la Champions League non succederà però ecco l'inter deve stare molto attento questo è poco ma è sicuro chissà che gli interisti non possano vendicare di fatto la Juventus tra l'altro occhio perché è vero che il Benfica nelle ottave ha beccato il Bruges però comunque gli ha fatto una goleada quindi occhio occhio però ripeto io do l'Inter favorita perché per la Rosa Galli è sicuramente favorita e c'è poco da stare a questionare Manchester City Bayern Monaco la terza partita e questa ragazzi è una partita che a me delude tanto vederla ai quarti proprio per me è un colpo al cuore io non avrei mai voluto City Bayern ai quarti so che favorisce gli italiani questo e va bene però obiettivamente ragazzi obiettivamente il Bayern è molto sfortunato questa non è sorteggia oggettivamente prima pesca il PSG e lo manda a casa ora pesca il Manchester City questa doveva essere un'eventuale finale massimo semifinale ma ai quarti è proprio la morte tra virgolette della Champions League e questo è quello che non mi piace della Champions cioè ci sarà un lato dove ci saranno le squadre di fatto top un lato con delle squadre un po' più scarse comunque inferiori e invece a me piacerebbe vederlo più equilibrato cioè è veramente un peccato secondo me è veramente un peccato io tra l'altro dico Manchester City perché secondo me il Manchester City è la squadra più forte però occhio al Bayern occhio al Bayern perché comunque sia il Bayern Monaco quindi occhio i giocatori sicuramente li ha e poi ultima uno scontro tra le due squadre italiane Milan-Napoli con quindi il Milan che giocherà in casa io vedo il Napoli favorito ragazzi c'è poco da dire con il vantaggio che è in campionato c'è poco anche da starne a parlare in due partite secche io vedo il Napoli favorito avrei visto il Napoli più in difficoltà probabilmente con l'Inter ma con il Milan onestamente lo vedo favorito per me è un peccato che due squadre italiane si affrontino io ad esempio avrei voluto vedere Napoli Napoli tanto decantato in Italia che fa bene giustamente mi sarebbe piaciuto vederlo contro Bayern Monaco mi sarebbe piaciuto vederlo contro Real Madrid mi sarebbe piaciuto vederlo contro Manchester City perché lì vedi il livello cioè se dovesse battere il Milan tra l'altro sempre per il discorso tabellone tennistico perché come sapete non c'è più il sorteggio poi in semifinale ma si andrà per tabellone tennistico diciamo la vincente di Milan-Napoli affronterà la vincente di Inter-Benfica quindi nel caso in semifinale ci potrebbe essere un altro derby italiano e quindi un'italiana sicuramente nel caso accederebbe accederebbe alla finale però a me personalmente avrebbe gasato di più vedere un'equità maggiore nei due lati del tabellone ecco perché immaginate dall'altro lato ci potrebbe essere ci sono Real Madrid-Chelsea e Manchester City-Bayern quindi chi passa tra Manchester City-Bayern probabilmente becca a Real Madrid cioè sono sono tutte finali anticipate quindi da un lato per carità è anche un pochino più emozionante perché è un po' più sorprendente ok dall'altro lato però cioè mi sarebbe piaciuto vedere veramente il Napoli confrontarsi con una squadra di vertice e non nel caso in un'ipotetica finale ma già prima perché una finale è una partita secca può succedere qualsiasi cosa cioè andata e ritorno comunque capisci il valore le differenze tra le varie squadre eccomi personalmente la penso così però ragazzi questo è stato il sorteggio e e queste sono le mie opinioni le mie emozioni vi mando un forte abbraccio ci vediamo tra poco con il sorteggio di Europa League e speriamo bene speriamo bene speriamo di non beccare il mio Manchester United speriamo bene a tra poco